Una vera e propria task force per contrastare i reati ambientali, il ripristino della polizia provinciale per pattugliare il territorio devastato da tombamenti di rifiuti e scarichi illegali. Dopo l'ennesimo scandalo made in Capitanata, con i cattivi odori e l'inquinamento del canale Lagrimaro, in cui la possibilità che si sversino liquami industriali è alta, il presidente della provincia, Nicola Gatta, corre ai ripari. Senza soldati, dice, è però impossibile fare le battaglie e dal canale Lagrimaro la situazione si estende a tutta la provincia di Foggia. È un'altra brutta pagina di questa provincia, le competenze ambientali della provincia sono limitate, però appena appreso della notizia abbiamo attivato tutti gli strumenti utili, abbiamo informato l'ARPA, abbiamo informato il Comune, abbiamo informato il Consorzio di Bonifica e quindi aspettiamo notizie da parte anche degli organi inquirenti. Rispetto alle tematiche ambientali abbiamo bisogno di aprire una vera e propria task force in questa provincia, nelle prossime ore chiederò alla regione di riavere come provincia la polizia provinciale, che ormai solo per la provincia di Foggia nella regione Puglia è stata distaccata alla regione e quindi non è più tra le corde e tra le competenze dell'amministrazione provinciale. È chiaro che senza i soldati le guerre non si possono fare.